Pensavamo di portare un'utopia, ma è un'utopia che ora si sta concretizzando. Le donne kurde stanno facendo due rivoluzioni, non solo da quello che è un popolo oppresso, non riconosciuto, ma anche per loro stesse. È da lì che credo che nasca la forza, io direi una forza d'acciaio, che hanno queste donne nell'imbracciare un fucile, non come attacco, ma come arma di difesa. La nostra idea non era quella di avere delle testimonianze, quindi di fare semplicemente un incontro sulle buone pratiche che le donne avevano usato lì nelle loro case. Era quello anche di portare un'idea che si potesse realizzare. Questo volevamo sentirlo con le loro parole, con le loro testimonianze. È questo che ci ha condotto a Cobane. A Cobane per portare quella che era la nostra idea, ma che volevamo sicuramente condividere con loro. Non una proposta calata dall'alto. Mi occupo di violenza maschile contro le donne da più di vent'anni. Proprio su questa vocazione di occuparci di donne nasce un po' l'idea sulla liberazione di Cobane, che è avvenuta nel gennaio del 2015, di una staffetta delle donne. Per noi era un sogno quello di ricostruire la casa delle donne a Cobane. Un'idea completamente diversa da come vengono vissute le case delle donne qui in Occidente. Un'idea completamente diversa da come vengono 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 vengono. Le donne kurde sono molto preparate, noi non ci aspettavamo un discorso così ampio e così alto di contenuti, loro conoscono tutte le nostre più grossi intellettuali femministe, quindi il discorso è stato molto edificante. Abbiamo pensato che dalla casa delle donne poteva uscire qualcosa di molto più bello e è lì che nasce l'idea di fare un'accademia internazionale, proprio fare di questa casa delle donne un incontro per tutte le donne del mondo. Il progetto è stato accolto dal comitato di ricostruzione di Cobane che è avvenuto a Diabarchir nel maggio del 2015 e nella conferenza ci è stato subito donato un terreno. Proprio perché questa casa sarà un luogo di incontro internazionale si è previsto di fare anche nell'ultimo piano una foresteria che sarà adibita allo scambio di delegazioni da tutte le parti del mondo. Progettare dall'Italia un edificio non è stato affatto facile, questo dobbiamo senz'altro ringraziare tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che facciamo insieme alla casa delle donne di Lucisiesta ma anche con WIKI che è l'ufficio informazione del Kurdistan in Italia e con Kurdist Institute di Bruxelles. Ognuno di noi è impegnato su questa campagna nazionale che ha il senso non solo quello della costruzione della casa delle donne ma anche quello di trovare sia i finanziamenti oltre a quelli che ci vengono dati dalla chiesa valdese ma anche quello di fare una campagna per non far cadere l'attenzione su questo popolo e su quello che rappresenta Kobane. Un'idea simbolo di una città che partendo dalle proprie forze è riuscita a liberarsi dall'invasione dello Stato Islamico. Grazie. 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 Grazie.